Ciao e benvenuti su Glamissima, il primo canale italiano di recensione di calzo collant e altri prodotti femminili. Io sono Diana e oggi andremo a parlare di questo paio di collant del brand MaryStyle. Prima di andarlo ad aprire vi ricordo che questo prodotto l'ho ricevuto da Amazon. Sotto nell'info box troverete il link nel caso appunto desideriate acquistarlo. Allora, questo è il prodotto, la scatola pecca esterna di cartone, la taglia è un XSS. Qua spaziamo dalle taglie, vediamo un po'. Allora, andiamo un po' a vedere. Andiamo un po' a vedere. Ah ok, queste sono delle calze da Gepier, quindi non sono autoreggenti, ma sono calze da Gepier, sono velate. Benissimo, io direi che a questo punto non ci resta che andarlo a provare e anche a realizzare un outfit dedicato. state pronta con il mio nuovo outfit decisamente più sofisticato, in quanto questo paio di calze con Gepier mi ha ispirato appunto per creare un look un po' più diciamo seducente. Ecco, ho indossato questo chemisier animalier, lo stretto in vita da una cintura e poi ho indossato le nostre calze per Gepier e vi faccio vedere un po' in cosa consiste la Gepier. Ecco qua, davvero molto molto seducente la Gepier. E devo ammettere, non sento che mi dita fastidio, ecco, mi sembra assolutamente che mi dia fastidio, assolutamente proprio. Davvero molto 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 sexy, la Gepier mi ricorda un po', no, le attrici del passato, quindi ecco sicuramente la Gepier è un tocco un più di femminilità. Questo outfit sicuramente è pensato per uscire, ho indossato i tacchi la sera per una cena romantica, un'occasione speciale e soprattutto perché appunto abbiamo una bella Gepier, che ne pensate? E poi ecco questo chemisier sicuramente elegante. Vi faccio un bel defilé, so che mi piace, un bel defilé. Vi voglio ammettere che non tira neanche, non tirano queste Gepier, forse sono addirittura più comode queste che l'autorigente in sé, perché non hanno appunto una banda adesiva che magari potrebbe stressare la gamba, ma hanno appunto il suo sostegno, che appunto vengono sostenute ecco in vita dalla Gepier. Devo ammettere che queste autoreggenti, o meglio Gepier, con calza, sono davvero molto molto confortevoli, anche in base alla taglia, perché comunque come vi dicevo è un XSS, però devo dire che mi va bene, quindi io di solito porto una S, per cui poteva sembrare piccola, in realtà no, in realtà va bene. Mi piace molto anche la velatura della calza, che rende la gamba davvero molto seduttiva, seducente. E sappiamo la Gepier essere sicuramente uno strumento molto 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 sensuale, è anche vintage, oserei dire, perché comunque apparteneva alle dive del passato. Questo tacco direi che proprio ci sta bene con questo collant ed è anche molto assettuosa la calza, proprio al tatto, quindi ecco è molto molto assettuosa. E qua sono decisamente più primaverile, più sporti, diciamo se può essere sporti, un abbigliamento del genere, però secondo me questo vestino si può tranquillamente, ecco, abbinare a questo genere di calza, che però mi sta iniziando a scendere, adesso io non so se dovrei regolarlo, però mi sembrava di averle regolate al massimo, le sento scendere, ecco, dico la verità, che le sento scendere, quindi non lo so, ecco. Bisognerà capire se si possono regolare, perché non vorrei provarmi fin giù nei piedi, ecco, questa autoreggente, questa calza, diciamo, come si chiama la calza? Si chiama la calza, no? Ecco, questo è un abitino molto primaverino, del sito WQ, con fiorelline, e i poids, molto molto svolazione, molto carino. Vi faccio un altro bel defile, così da vedere bene le nostre collante. Queste calze sono davvero molto particolari, ecco, le cuciture sui piedi, come sapete, che ci interessano molto, in quanto comunque potrebbero crearci scomodità, ecco qua, sono molto sottili, quindi ecco, non creano disturbi. La calza ho notato scendere, che scende, forse è normale, no? Per una calza senza elastico, ecco, però devo dire che, magari indossando una cosa più lunga, questo problema non sussiste, ecco, no? Quindi, sicuramente la gamba è molto più, è molto bella, è molto accusolata, con questo genere di collant, e l'idea appunto della Gepière è davvero molto, molto carina. Sicuramente queste calze hanno soddisfatto le mie aspettative, come pregi posso dire che la trama è davvero molto, molto, molto bella, molto sinuosa, e anche molto sedosa al tatto. L'unico difetto, secondo me, è che appunto essere una calza tende a scendere, quindi, insomma, bisogna magari calcolare questa cosa qua. Però, in tutto sommato, devo dire che questi collant sicuramente si possono indossare anche per tutta la sera. Io vi ricordo che queste calze le ho ricevute da Amazon e voi potete acquistarle tramite il link giù nell'info box. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale di Glamissima, se ancora non l'avete fatto, e a lasciarci anche un bel like. Rimanete sintonizzati su Glamissima. Ciao, da Diana. Ciao. 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 Ciao.